Tanti liceali, tanti tecnici del settore meccanico, pochissimi, troppo pochi, studenti che scelgono le professioni. La fotografia scattata all'indomani della chiusura dell'iscrizione alle scuole superiori racconta un alto chiascio dove tra Gubbio e Gualdotadino il liceo la fa da padrone. Al Mazzatinti di Gubbio saranno 210 gli studenti delle prime il prossimo settembre, in aumento di una trentina di unità rispetto allo scorso anno, che consentiranno alla scuola di richiedere nove classi, tre di scientifico, due di classico, due di scienze umane, una di sportivo e una di artistico. Importante performance dell'indirizzo sportivo con 26 iscritti, ma cresce anche lo scientifico, ottengono bene il classico e l'artistico. Il Mazzatinti conferma e incrementa il suo trend di crescita. Già lo scorso anno aveva aumentato il numero di iscritti da 164 del 2016 a 180 del 2017. Ora, in questo 2018, il balzo, che lo porta anche a superare l'altro istituto superiore e Gubbino, il Cassata Gattappone. Restando ai licei, a Gualdotadino sono 105 nuovi liceali che saranno suddivisi in due classi di scientifico, una di scienze applicate, due di linguistico. La novità qui è l'indirizzo tecnico che inaugurerà a settembre il corso di grafica e comunicazione con 24 iscritti. Scompare il professionale. Sul versante tecnico-professionale a Gubbio, le iscrizioni hanno premiato l'istruzione tecnica, penalizzata quella professionale. Sono 183 gli iscritti totali, con un calo di una ventina di unità rispetto all'anno precedente. L'istituto piace più fuori Gubbio che in città, perché attrae da Gualdotadino, Pietralunga e Perugino, ma conta un meno 40 iscritti dalla Mastro Giorgio Nelli rispetto all'anno precedente. Tra gli indirizzi con maggior appeal, il biologico-sanitario, ma anche il meccanico, che farà due classi. Difficoltà, invece, sul settore economico e turistico, dove si dovrà capire se sarà possibile attivare due classi distinte. Difficoltà che si accentuano nel professionale, con la richiesta da parte della scuola dell'istituzione di una classe articolata, che includa moda ed elettrici, per non far scomparire questi due indirizzi.